allora mi sono reso conto che questa campagna sull'odio non ha più senso dobbiamo fare una campagna basata sull'amore allora vorrei dire al nostro governatore vorrei chiedergli prima tutto scusa per aver scritto anche una canzone irriverente nei suoi confronti ci ho pensato bene è un uomo di 71 anni potrebbe essere mio padre che è già pensionato da diversi anni potrebbe godersi i nipoti voglio dire ecco qui siamo a ischia ci sono le terme ci sono tante cose belle che potrebbe fare invece sta lì a battersi a lottare in consiglio regionale contro i magistrati contro contro tutti allora dico basta togliamogli questo peso lo dico proprio a voi elettori basta il 20 e 21 settembre non lo votiamo lasciamolo stare facciamogli godere finalmente tutti questi anni di lavoro